Ciao a tutti, ciao a tutte. Questa volta lancio una proposta shock, una proposta che sicuramente farà discutere, se non verrà bannata, perché magari non vorranno la verità. Attento che siate collegati perché il momento è importante, serve una condivisione perché io lo sto per lanciare, una proposta che farà sicuramente arrabbiare, farà pensare tante persone, tanti politici, tanti parlamentari, ma dato che in questi due anni e mezzo il popolo italiano e non solo il popolo italiano, il popolo europeo, il popolo di tutto il mondo è stato obbligato a sottoporsi con un green pass, ha un obbligo, sapete di cosa? Io vorrei sapere, dato che in questi giorni sta venendo fuori un casino incredibile con questa dottoressa vaccinatrice che ha fatto i vaccini finti, in sostanza, ha fatto dei green pass falsi e oggi sono usciti 300 nomi, di 300 personaggi, anche illustri, anche VIP, anche del mondo della musica, anche del mondo dello spettacolo, che avrebbero dei green pass falsi, avrebbero fatto delle carte false, io lancio una proposta, chiederei una vostra condivisione di massa a tutti, su tutti i social, quindi oltre a Facebook, su Instagram, condividetela su TikTok, condividetela su Telegram, chi più ne ha più ne metta su Twitter. La proposta è questa, è molto semplice, tanto che in commercio esistono dei test sierologici che possano appurare o meno la presenza della proteina spike, la presenza di una vaccinazione, in sostanza, all'interno del corpo, del proprio corpo, sarebbe carino se questi test funzionino come deve essere, penso che ci siano, ma io la notizia dovrebbero esserci, che tutto il Parlamento, tutti i nostri politici bravissimi, diano il buon esempio e uno ad uno si sottopongono a un semplice test sierologico per dimostrare al popolo, dimostrare alla gente che prima di tutto loro si sono sottoposti all'obbligo. Perché chiedo questo? Perché io non mi fido, perché io non mi fido più, dopo che stanno venendo fuori questi medici vaccinatori che avrebbero per soldi fatto dei green pass falsi e dopo che hanno per due anni e mezzo obbligato tutti a sottomettersi a un green pass obbligatorio, sarebbe giusto che questi politici, i medici, i giornalisti, i primari, tutti i virologi, tutti dal primo all'ultimo pubblicamente si sottopongano a un test sierologico, non so se un autotesto in laboratorio, mi fido di più di una cosa fatta in laboratorio, dimostrino che effettivamente hanno fatto quello che dovevano fare, quello che ha fatto il popolo, quello che ha fatto il pubblico. Questa notizia verrà condivisa poco, lo so già, perché la bloccheranno, salvo che gli stessi esponenti dei social network, quindi chi lavora all'interno dei social network trovi l'idea giusta, ovvero far sì che i politici dimostrino che loro per primi si sono fidati e hanno fatto quello che è stato obbligato a fare il popolo, ovvero sottomettersi a un obbligo. Sto aspettando che condividiate, perché sono veramente, stanno facendo delle figuracce incredibili, sta venendo fuori una porcheria incredibile, adesso hanno pubblicato 300 nomi e stiamo cercando i nomi, uno ad uno, per dire chi ha fatto finta, chi ha fatto finta, in verità saranno migliaia magari o milioni, il dubbio è questo, magari sono migliaia e migliaia quelli che hanno fatto finta, come questi personaggi VIP, questi cantanti, questi sportivi. Quindi veramente io vorrei sapere se questa proposta, Giorgia Meloni, già dato che Giorgia Meloni è contro i green passi, contro gli obblighi ed è, lo sta dimostrando con dei fatti, chiederà il ministro della salute, il neoministro della salute di obbligare tutti, tutti i politici a dimostrare che hanno fatto, che si sono sottomessi, che hanno fatto quello che hanno dovuto fare i cittadini. Proposta pesante? Sicuramente. Proposta che farà parlare? Potrebbe, ma magari lo scureranno, perché sapete i TG non parlano neanche delle notizie dei malori che ci sono tutti i giorni intorno a noi, non dicono niente di questi sportivi di 15 anni che hanno malori improvvisi, di questi 18 anni, 20 anni, queste ragazze, questi ragazzi che di colpo muoiono di infarto, di trombosi, non dicono nulla. Quindi potrebbe essere che questa cosa qua non la condividano, però chiedo la condivisione a voi, al popolo, alla gente che non ha mai mollato e che mai mollè e alla gente che ha dovuto mollare, obbligata, che però non l'avrebbe mai fatto se non obbligata. Quindi vi chiederei questa cosa qua, è una cosa molto tranquilla, è un test, si fa in pochi minuti, basta aver voglia di farlo e mettere questa cosa obbligatoria per tutti i politici, tutti i VIP, tutti i giornalisti televisivi, tutti i conduttori, tutti quelli che in questi due anni e mezzo hanno promozionato una campagna vaccinale. Sarebbe giusto farlo per far capire alla gente che loro ci hanno creduto veramente e che ci credono. Lo faranno? Dubbio, dubbio, perché loro parlano di complottisti nei confronti degli altri, ma loro sono i primi a fare i certificati falsi e stanno venendo fuori i nomi perché quella dottoressa sta sputtando i nomi, sta tirando fuori tutta la verità. Quindi io sono veramente curioso di capire se questi l'hanno fatto o non l'hanno fatto. Sono veramente curioso di capirlo. Attendiamo, io attendo, attendo una risposta, attendo che qualcuno mi dica che non è proposta improponibile perché come fai a obbligare un parlamentare a fare un test? Se il Toti del caso che ha fatto campagna lo vuol dimostrare pubblicamente siamo più che gli Eti, se Letta vuol dimostrarlo, se Salvini vuol dimostrarlo, se Berlusconi vuol dimostrarlo, se Di Maio vuol dimostrarlo, che lo dimostrino dal momento che loro hanno firmato per l'obbligo tutti insieme. Avendo firmato per l'obbligo tutti insieme, a Paragone non lo chiedo, non l'ha fatto. Paragone non lo chiedo perché lui non ha firmato per l'obbligo e non l'ha fatto. Ma ci sono tanti parlamentari che hanno firmato per l'obbligo, quasi tutti, e hanno di fatto detto dovete farlo, dovete farlo. Loro l'avranno fatto? Il dubbio è più che lecito a questo punto perché sta venendo fuori i nomi ed è veramente una cosa scandalosa. Vi chiederei di condividere, so che l'algoritmo non piacciono queste cose, l'algoritmo, anche se non sto parlando di nulla, sto semplicemente dicendo vorrei la dimostrazione che il signor Biden l'ha fatto, vorrei la dimostrazione che il signor Zelensky l'ha fatto, che la signora Ursula von der Leyen l'ha fatto, che la signora Meloni l'ha fatto, che il signor Letta l'ha fatto, che il signor che più ne ha più ne metta l'ha fatto. Vorrei capirlo perché io ho dei grossi dubbi e vorrei veramente capire questa cosa. Ce lo dimostreranno? Non credo che nessuno l'abbia fatto, mi dicono Antonietta. Vedete il problema è che la gente sta pensando questo. Tutta la gente, ve lo assicuro che veramente il 99% delle persone dicono questi non si sono fatti nulla e l'ha fatto affare a noi. Perché l'ha fatto affare molto giusto a farlo per dimostrare, anche Macron dovrebbe farlo, dovrebbero fare questa cosa qua per far capire, il signor Speranza, la Ronzulli, che loro hanno promosso una cosa perché sono stati i primi a crederci. Io sono curioso, sono proprio a vedere se Macron l'ha fatto, se la Ronzulli l'ha fatto, se tutta questa gente l'ha fatto. Sono curioso, una semplice domanda, domandare all'ecito e rispondere cortesia. In questo caso però rispondere serve una cosa giusta nei confronti della popolazione che non si fida più di loro. Quindi sarebbe un modo per riprendere fiducia nel popolo. I televirologi l'hanno fatto tutti? Ho visto delle foto che l'ha fatto, vorrei vedere un suo test pubblico. Fatto però con una commissione che valuti sopra le parti. Una commissione fatta da medici vax e medici no vax che guardino le analisi e dicano sì, in effetti abbiamo guardato insieme i test sireologico e giusto e il signor Speranza effettivamente ha fatto tutto quello che doveva fare. Io questa cosa la vorrei vedere. So che bloccheranno la notizia magari perché una richiesta del genere è popolare ma impopolare nei confronti dei politici perché è una mancanza di fiducia nei loro confronti. Qualcuno di voi si fida al 100%? Chi è che di voi, le vorrei capirlo, metterebbe la mano sul fuoco sui politici attuali, sui giornalisti attuali, sul mondo dell'informazione attuali? Chi di voi ci metterebbe la mano sul fuoco? Io no, io sinceramente no. Sono proprio curioso di vedere cosa risponderanno e se mai dovessero rispondere. Cosa risponderanno soprattutto? Ciao a tutti, questa è una proposta, è semplicemente una proposta che farà magari discutere oppure non ne verrà messe in sordina come tante proposte che sono state messe in sordina per un motivo, perché la verità fa male. Come quella canzone bellissima anni 60, la verità ti fa male lo so. Ciao a tutti.